Sfogliamo ancora la pagina sportiva, tra le tante manifestazioni internazionali in questo periodo in Sardegna abbiamo, spiccano a Cagliari i campionati europei di scherma, ce ne parla Maurizio Ciotola. Buongiorno, siamo qui al Palazzetto dello Sport con Gianmarco Tavolacci, delegato per la Sardegna della Federazione Italiana Scherma. Siamo qui per chiedergli quali saranno i campionati e che cosa si svolgerà in questi giorni qui a Cagliari. Per la prima volta si sfidano le squadre campioni dei singoli campionati nazionali. Sarà quantomeno un successo di partecipazione, nel senso che con una fortuna insperata c'è stata un'adesione veramente notevole, sono presenti 21 paesi europei per 48 squadre. Presidente, ma cosa ci sarà nelle prossime fasi di questa iniziativa della scherma che è qui a Cagliari sembra risorgio, si rinasce in maniera decisa? Sì, effettivamente questo quadrienne olimpico che si conclude nel 2024 è particolarmente propizio per la Sardegna, nel senso che dopo questo campionato europeo la Federazione ha segnato alla Sardegna lo svolgimento dei campionati nazionali assoluti master. unitamente a quei master vi sarà anche la prova integrata, cioè una prova in cui si sfidano i campioni olimpici e quelli paralimpici. In più nel 2024, cioè l'anno olimpico, vi ricordo che l'Olimpiadi sarà nel 2024 a Parigi, nel 2024, l'ultima manifestazione ufficiale della scherma italiana, cioè la manifestazione più prestigiosa, la regina delle manifestazioni, cioè i campionati nazionali assoluti olimpici e paralimpici, si svolgeranno qui a Cagliari.